Ciao a tutti ragazzi qui è GeneticDNA che vi parla, ma va che strano eh! Voglio fare questo video che è un po' che volevo farlo, è praticamente un video di supporto per Marek, Marek tra l'altro voglio ringraziarlo ancora per l'introduzione che mi ha fatto, tra l'altro mi deve fare un'intro nuova e voglio supportarlo perchè ha dovuto chiudere il suo canale che aveva 300 passi iscritti e ha dovuto aprirne uno nuovo che vi lascio il link in descrizione quindi mi raccomando seguitilo che è un ragazzo molto simpatico, giovane, il suo nuovo canale ha ancora pochi iscritti quindi cerchiamo di dare supporto a questi canali piccoli. Qui è tutto da GeneticDNA, alla prossima, ciao ciao!